Sì, come ho detto prima, sono molto felice di poter essere, far parte di questo ambiente competitivo e intelligente che mi permetterà di crescere ogni giorno e migliorare. Sono tanti giocatori bravi, esperti che hanno vinto qualcosa, quindi cercherò di imparare, specialmente da Stefano Tonut che è più esperto di tutti e tanta voglia di fare bene. Io penso che faremo tutti bene, tante ambizioni qui, ambiente vincente, quindi sono contento. Sì, mi piace molto numero 7, però siccome Stefano è qui già tre anni, non potevo rubargli la maglia, quindi ho preso 77.